Allora passiamo alla classifica del cerchio. Al terzo posto con punti 715 la società Edoardo Antonelli, squadra 2. Premia il presidente del giuria Monica Brannuzzi. Al secondo posto con punti 740 la squadra, prima squadra Edoardo Antonelli. E al primo posto con punti 790 la società Judo Antonelli. E premia l'assessore allo sport di Velledri, Alessandro Pioni. E' venuto qui a trovare giù e a fare un saluto a tutte le partecipanti. Al quarto posto, Sers. Bene. Ginnaste, potete tornare a posto. E passiamo alla specialità Palla. Al secondo posto con punti 520 la società più ritmica.